Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, scopriamo insieme la tendenza per la giornata di venerdì. Ultimi fenomeni, special mattino, arco alpino e parte delle alte pianure del nord Italia, poi nel corso del pomeriggio clima via via più asciutto, anche belle aperture del cielo, insomma entro sabato ritroveremo un debole anticiclone. Sabato giornata nel complesso buona, ma l'anticiclone avrà vita molto breve perché ripeggiora domenica per questa perturbazione in avvicinamento dal Mediterraneo occidentale. Andiamo a vedere quindi la giornata di venerdì dal punto di vista della nuvolosità, ancora variabilità al mattino su un po' tutto il paese, poi delle schiarite che diventeranno anche ampie specie dalla serata, quindi seconda parte di giornata tranquilla su un po' tutto lo stivale. E difatti la prossima grafica ci conferma gli ultimi fenomeni su parte del settentrione e zone interne di Toscana, poi tutto tranquillo e massime del pomeriggio diffusamente tra 17 e 21 gradi. Aggiornamenti più precisi sull'app di Trebi Meteo.